Anche il Comune di Alghero, il Consiglio Comunale dell'Unanimità, ha deliberato e approvato la mozione di Assisi e siamo con voi per dire no e stop a qualsiasi esportazione di armi, no alla guerra e soprattutto diciamo no ad un conflitto inesistente tra il diritto al lavoro e l'esigenza che è evidentemente così sentita di produrre armi per l'esportazione. Siamo per la riconversione delle fabbriche, a cominciare da quelle del sulcesigresiente e siamo per fare in modo che ci sia per tutti la dignità del lavoro ma un lavoro che abbia un impatto sociale, che non generi e crei guerra, che non generi e crei odio. Ed è per questo che la mozione che si unisce a quelle che già sono state approvate da altri Comuni vuole soprattutto interpellare il Governo e il Parlamento perché si dica davvero no all'esportazione delle armi.